Andiamo benvenuto a Michele Quinto, country head per Franklin Templeton, a quale vogliamo chiedere come si coniugano il tema dell'innovazione con il mondo degli investimenti e dei prodotti finanziari dal punto di vista della vostra società. Come Franklin Templeton siamo molto impegnati sul fronte tecnologico, siamo nella Silicon Valley, siamo al centro del più grande hub di innovazione a livello mondiale. Abbiamo due direttrici che ci guidano nell'ambito della tecnologia. La prima è quella degli investimenti, stiamo continuando ad investire in questo settore, lo facciamo non soltanto in America, la tecnologia è diventata molto importante anche nel panorama dei mercati emergenti, non tutti sanno che ormai è assunto un'importanza rilevante nei benchmark, il 30% del benchmark dei pensi emergenti è dedicato alla tecnologia, quindi il focus non è più americocentrico, chiamiamolo così, ma si sta spostando a livello globale. L'altro invece è la direttrice che ci porta ad investire nella tecnologia per migliorare i processi aziendali. Siamo impegnati come Templeton a razionalizzare i costi, a migliorare l'efficienza, la produttività, quindi sempre più tenderemo ad investire in quella che si chiama ormai blockchain, che cercherà di razionalizzare alcuni processi, di ridurre i costi, di essere anche più trasparenti nei confronti della clientela. Un ultimo tema riguarda la tecnologia nell'ambito del portfolio management, stiamo investendo tanto anche per cercare di rendere i gestori un pochettino più consapevoli di tutto quello che è il mondo dell'intelligenza artificiale. Stiamo acquistando anche delle aziende che ci aiuteranno a sviluppare questi modelli che speriamo attendere miglioreranno la nostra ricerca e le possibilità che i gestori hanno di produrarsi.